buongiorno buongiorno e benvenuti a tutti al sesto e ultimo appuntamento del ciclo di webinar in dialogo col foro regionale per la ricerca e l'innovazione organizzato da regione lombardia in collaborazione con fondazione giannino bassetti benvenuti ancora questo appuntamento di questo ciclo nato per far conoscere i dieci membri internazionale che costituiscono il foro e per far conoscere ovviamente le attività di accompagnamento alla governance regionale responsabile della ricerca e dell'innovazione in questi ultimi tre anni prima di addentrarci nel vivo dell'evento che vedrà protagonista proprio il presidente del foro regionale per la ricerca e l'innovazione il professor mario calderini lascio subito la parola per un suo saluto iniziale a fabrizio sala assessore per l'istruzione università ricerca innovazione e semplificazione di regione lombardia benvenuto buongiorno assessore grazie a voi benvenuti buongiorno a tutti un ringraziamento particolare per il lavoro che è stato svolto al presidente calderini a tutti voi un lavoro che secondo me abbiamo visto con un pizzico di lungimiranza tutti insieme quanto fosse importante tracciare una linea delle linee guida o comunque indirizzare scienza e tecnologia verso una responsabilità sociale e forse anche a livello popolare ci si è accorti sempre di più di questa importanza anche durante la fase eh pandemica quando accadono questi fatti che stravolgono un po' la vita eh delle persone di dell'intera popolazione mondiale ecco che la scienza corre in aiuto ma la scienza si mobilita e si mobilita con un indirizzo eh un indirizzo fortemente incentrato a a all'uomo forsemente incentrato al benessere sociale sanitario e quant'altro in questo periodo ci si è accorti che eh quanto sia eh quanto siano importante questi temi e il lavoro che è stato svolto in questi tre anni è un lavoro che eh è prezioso e tanto più sarà prezioso nel futuro quindi con questo io voglio ribadire eh la nostra volontà di proseguire con con questo organismo con questa iniziativa anzi quello di eh ampliare un po' se vogliamo il raggio d'azione perché in questa fase di tra virgolette rinascita abbiamo sicuramente bisogno di eh mettere dei punti fermi di riscrivere qualcosa di importante in materia di innovazione sociale questo è il tema che eh secondo me sarà la guida per i prossimi anni e per il futuro e anche per le nostre eh future generazioni quindi mai come oggi il rapporto tra eh scienza e società eh diventano fondamentali grazie anche a fondazione Bassetti che eh con la sua straordinaria capacità eh di visione ringrazio e saluto il presidente Piero Bassetti che eh di fondamentale importanza non solo in questa materia ma in molte collaborazioni che ha con Regione Lombardia perché in sé la lungimiranza passa attraverso il coinvolgimento passa attraverso il coinvolgimento di eh di realtà di persone di istituzioni di esperti di scienziati insomma di una serie di eh di di persone e di soggetti che rendono possibile ehm rendono possibile appunto eh convogliare sempre la scienza verso un'innovazione sociale eh quanto più una comunità è tecnologicamente scientificamente evoluto tanti più deve chiedersi come indirizzare responsabilmente questo potenziale questa è eh la riflessione che dobbiamo fare e poi eh concretizzare perché nelle azioni che l'istituzione Regione Lombardia vuole portare avanti nei prossimi anni ci troviamo davanti a un periodo eh particolare i notevoli investimenti la voglia di rinascita insieme crea sicuramente una creerà sicuramente una velocità a livello di innovazione scientifica ancora più forte di quello che è stato eh fino ad oggi sicuramente saranno settori diversi che avranno più attenzione perché dopo una fase di questo tipo eh una fase di crisi è sempre sinonimo di una fase di cambiamento quindi avremo eh un cambiamento nella crescita di alcuni settori non solo economici della nostra società ma è importante che la crescita economica vada di pari passo con eh lasciatemi dire con la crescita sociale quindi ancora una volta il termine innovazione eh sociale in questi tre anni molto del lavoro che è stato svolto e preziosi sono stati alcuni interventi del foro proprio per questo io ho detto che questa è un'esperienza che vogliamo riportiamo vogliamo portare avanti e vogliamo anche allargare un po' ne discuteremo in merito alle competenze sarebbe interessante scrivere qualcosa che rimanga un po' come storia per affrontare il 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 futuro il futuro anche nella crescita tecnologica e scientifica e quindi l'idea che il foro possa accompagnare le azioni di regione lombardia non solo le azioni di regione lombardia ma le azioni coordinate sapete che la maggior parte di azioni in materia di ricerca e innovazione vengono fatte fondamentalmente con tre pilastri che sono eh le attività economiche le istituzioni e le università e e ecco le azioni coordinate di queste tre pilastri è interessante che vengono accompagnate da consigli suggerimenti e eh e comunque dal dal da questo foro quindi ancora grazie per il vostro impegno eh tenendo presente che tutto ciò che è uscito tutto ciò che uscirà fondamentalmente scrive un po' io lo vedo così i passi positivi di una storia che stiamo vivendo e che all'inizio di una ricrescita e di ingenti investimenti eh sono sempre più necessari per indirizzare il nostro progresso scientifico verso il bene dell'individuo e quindi eh ecco che il tema della dell'innovazione sociale è secondo me la principale punto se si parla di ricerca e innovazione forse fino a poco tempo fa siamo stati abituati a declinarlo come ho detto prima molto in innovazione di carattere economico di trasferimento tecnologico oggi dobbiamo eh occuparci anche di questa crescita nell'interesse dell'uomo grazie ancora per quello che avete fatto e da parte nostra eh esprimo la voglia di continuare a lavorare insieme grazie grazie mille per questi saluti per queste parole all'assessore sala eh di ringraziamento di questo lavoro di accompagnamento da parte del foro eh percorso di appunto di questi tre anni che abbiamo cercato di raccontarvi in questo ciclo di webinar come ricordavo all'inizio siamo alla fine di questo racconto nel sesto appuntamento eh nelle negli episodi precedenti nelle puntate precedenti eh abbiamo parlato di temi chiave temi importanti eh riguardo le competenze delle persone che compongono il foro ma anche riguardo alle attività che sono state svolte eh da parte del foro in questi eh tre anni con suggerimenti position paper flash recommendation per eh la governance responsabile della ricerca e innovazione per eh il lavoro territoriale di eh regione Lombardia nel primo appuntamento abbiamo parlato insieme a Marzia Mazzonetto e Agnes Alansdotir di metodologie di eh coinvolgimento dei cittadini sia nel disegno delle policy che vanno a regolare eh a gestire a regolamentare la ricerca e l'innovazione sia a tutte quelle pratiche di coinvolgimento dei cittadini proprio all'interno dei processi di ricerca e di eh di co-creazione di innovazione congiunta insieme ai cittadini che sempre più eh stanno prendendo piede e stanno diventando imprescindibili nella eh costruzione dei percorsi di ricerca eh di innovazione ormai da anni a questa parte abbiamo quindi parlato uno dei grossi temi scientifici e tecnologici eh degli ultimi anni big data eh come sappiamo sono eh l'utilizzo la gestione le infrastrutture tutto eh quello che ruota attorno ai big data sono un'opportunità enorme nella costruzione di eh policy migliori per avanzare nella conoscenza eh scientifica e di innovazione ma eh chiaramente in un'ottica di responsible innovation guardare ai big data significa anche guardarne i limiti anche quelli emergenti a cui si eh si stava guardando ancora poco come quello della sostenibilità ambientale cosa significa avere grosse infrastrutture eh che conservano moli enormi di date e che quindi consumano molta energia in un contesto eh di eh di occhio attenzione all'impatti del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale eh conosciamo tutti appunto le parole eh che risuonano eh su tutti i media e chiaramente nei banchi dei decisori politici il Green Deal a livello della Commissione Europea anche il nostro piano eh di nazionale di resilienza parla moltissimo di sostenibilità ambientale quindi insieme a Federica Lucivero e Francesco Lescai abbiamo parlato delle opportunità e dei limiti eh dei big data. Infine abbiamo parlato di un altro eh tema molto importante le policy di genere, la presenza di eh di donne ma in generale dei temi di inclusione eh all'interno dei percorsi di ricerca e di innovazione che cosa si può fare, che cosa stanno facendo i governi e le istituzioni di ricerca e innovazione in tutto il mondo su eh su questi temi. Ci siamo spostati poi negli Stati Uniti e insieme eh a Dave Guston, David Guston dell'Arizona State University abbiamo parlato di un approccio molto simile alla Responsible Innovation, la Public Interest Technology, iniziativa eh portata avanti da diverse fondazioni eh negli Stati Uniti e che sta coinvolgendo le più importanti università americane in un percorso di riflessione ma soprattutto di formazione eh dei tecnologi del futuro ma anche di coloro che andranno a governare e a regolare la tecnologia del futuro perché abbiano un'attenzione a una tecnologia che non sia solamente eh capace di rispondere ad alcune eh problematiche ma appunto non abbia eh ma accolga anche eh una visione di eh risposta e di innovazione sociale come ci ricordava eh proprio anche prima eh l'assessore Fabrizio Sala. Ultimo appuntamento giusto una settimana la settimana scorsa giusto una settimana fa con eh Ralph Lindner e Douglas Robinson eh il grande tema eh di eh di policy di ricerca e innovazione del degli ultimi mesi un tema non nuovissimo ma che si è rinnovato e che è diventato uno dei pilastri del nuovo programma quadro di supporto alla ricerca e all'innovazione Horizon Europe le missioni anche eh nel nostro piano di eh di resilienza nazionale abbiamo le missioni in Horizon Europe diventeranno eh sicuramente un pilastro e un modo nuovo di concepire gli ecosistemi di ricerca e innovazione in cui tutti gli attori eh tutti gli stakeholder policy makers in primis coloro che lavorano nel mondo della ricerca tutti gli attori dell'industria ma anche soprattutto i cittadini eh prendono parte a questo percorso di decisione messa a terra e valutazione appunto dei missioni su grandi temi su grandi eh societal challenges sfide sociali che eh stiamo eh stiamo affrontando e necessariamente dobbiamo affrontare come eh comunità eh allargata. e oggi insieme eh all'ospite di oggi allo speaker di oggi eh parleremo di imprese tecnologiche ad impatto sociale per un'innovazione inclusiva eh e responsabile. Eh come eh ricordava l'assessore Sala l'attuale l'attuale crisi pandemica ha decisamente innescato profonde eh riflessioni anche trasformazioni dei modelli eh di welfare andando a sottolineare proprio la crescente complessità dei bisogni sociali eh cui questi ultimi sono chiamati a fare fronte. In questo contesto la crisi eh stessa eh nonostante le gravi conseguenze che chiaramente abbiamo visto sui sistemi sanitari sulla stabilità sociale e sulla stessa eh crescita economica può però costituire un'importante opportunità per andare a rilanciare e rafforzare il ruolo dell'imprenditorialità sociale eh storicamente protagonista nel nostro sistema di welfare. Eh all'interno proprio di questa traiettoria di cambiamento la relazione tra impresa sociale e innovazione tecnologica può ed è chiamata a rivestire un ruolo centrale nello sviluppare nuove soluzioni imprenditoriali capace di rispondere ai bisogni sociali complessi. Ne parliamo oggi con Mario Calderini, il professor Mario Calderini che appunto è stato in questi tre anni per questi tre anni il presidente eh del foro eh regionale per la ricerca e l'innovazione. Mario Calderini ha eh un PhD in economia eh presso l'università di Manchester e professore ordinario del Politecnico di Milano dove insegna social innovation. E direttore di Tiresi è il centro di ricerca sulla finanza e l'innovazione sociale della School of Management del Politecnico di Milano. Attualmente è anche consigliere di gabinetto del ministro dell'innovazione Vittorio Colau e membro della Commissione per la Finanza Sostenibile per le Infrastrutture eh commissione istituita dal ministro Enrico Giovannini. È stato consigliere scientifico del ministro della ricerca e dell'innovazione nominato Sherpa del governo per il G7 Scienza per diversi mandati fino al governo Gentiloni. È stato anche membro della task force del G8 per l'impatto sociale, ha presiduto l'advisory board italiano per la social impact finance ed è presidente del comitato scientifico social impact agenda per l'Italia. Do quindi il benvenuto e il buongiorno a Mario Calderini e lascio eh la parola eh per il suo speech. Grazie, grazie a tutti, grazie Angela e grazie assessore Sala per per averci ascoltato in questi anni anche anche complicati dal punto di vista delle sfide che abbiamo tutti dovuto affrontare e anche per averci consentito di lavorare in assoluta indipendenza e di fornire eh gli stimoli che questo consesso internazionale che aveva l'onore di di presiedere ma che aveva eh seduti con me dei personaggi di di altissimo profilo eh credo che sia stata un'esperienza interessante e e anche un modello di rapporto sano tra tra istituzioni, e competenze scientifiche. Quindi grazie davvero. Adesso io invece faccio faccio la mia parte e devo dire grazie anche all'assessore per avere un po' introdotto il tema eh se non altro stimolato perché io partirò da un ragionamento che si basa sul fatto che io credo che noi siamo un po' costretti a rivedere i paradigmi di innovazione, il modo stesso in cui abbiamo studiato innovazione e che questo eh anche attraverso un'ipotesi di allargamento dei confini della politica industriale ai soggetti imprenditoriali del terzo settore debba portare allo sviluppo di una nuova generazione di politiche per l'innovazione eh e anche di politiche industriali più attente a coinvolgere, più attente ad includere eh a restituire alla società il valore che la società stessa mette a disposizione di chi hanno innova attraverso le tasse naturalmente attraverso le idee, attraverso gli stimoli, attraverso i bisogni. In realtà la la regione Lombardia ha una tradizione in questi ultimi anni di sviluppo di piani strategici sulla ricerca molto orientati agli stimoli che vengono dalla società e agli stimoli che vengono dalle grandi sfide sociali che come vedremo eh è è un approccio molto in linea con eh l'evoluzione che hanno preso le politiche europee negli ultimi negli ultimi anni. Quindi diciamo partirò da questa riflessione sui nuovi modelli di innovazione, sull'importanza del coinvolgimento della società e dei soggetti del terzo settore per finire a delle considerazioni di politica dell'innovazione più ampia. Se mi permettete condivido alcune breve slide con cui mi aiuterò eh un istante solo di pazienza ecco eh se mi Angela mi dici se eh si vedono correttamente. Sì perfetto. Ok. Benissimo. Allora eh io eh credo che si possa partire da questo e e poi individuerò sei sfide che sono le sei sfide che io credo che gli innovatori, i policy maker devono avere bene a mente nel disegnare le politiche dell'innovazione nel futuro. Allora la prima è questa, è un inizio un po' leggero che però diciamo contiene una verità. Io credo che la parola chiave per l'innovazione nei prossimi anni sarà l'innovazione per il senso e per il proposito. Ora eh e quindi l'innovazione di senso. Ora naturalmente sgombriamo il campo da ogni dubbio. L'innovazione ha sempre prodotto valore sociale, ha sempre prodotto insieme a tante altre cose ma ha sempre prodotto eh progresso e miglioramento di delle delle condizioni delle persone. Eh in realtà però quello di cui dobbiamo discutere oggi è che il motore primo dell'innovazione è stato come dire la ricerca di soluzioni non sempre strettamente guidate dal benessere della società. Eh e questo in qualche modo ha eh diciamo avuto come conseguenza il fatto che eh si è prodotto del benessere come esternalità positiva degli atti innovativi ma che non necessariamente gli atti innovativi nel modo in cui sono stati progettati e portati avanti e poi tradotti anche in esperienze economiche industriali hanno minimizzato quelle che gli studiosi chiamano conseguenze inattese dell'innovazione o se volete hanno massimizzato il valore sociale condiviso, il bene pubblico realizzato dalla dall'innovazione stessa. Eh per entrare in questo argomento e per far capire che cosa vuol dire questa transizione verso un'innovazione che non solo genera come esternalità positiva dei valori eh importanti ma che in qualche modo è guidata da un senso e da un proposito, da un significato, una ricerca di significato dell'atto innovativo. Io parto sempre da questa figura un po' leggera. Sulla sinistra ci sono i contadini del Myanmar eh che hanno trovato questa soluzione assolutamente geniale a un problema che aveva delle ripercussioni economiche e sociali gigantesche cioè che loro coltivavano le loro avevano le loro piantagioni devastate eh due volte all'anno dai dai tifoni e chi è stato sul lago Ingra eh ha visto queste coltivazioni che adesso i contadini hanno su delle piattaforme di fango e paglia galleggianti e quando arriva eh arrivano i monsoni, le grandi piogge ci sono le inondazioni ma queste piattaforme salgono eh galleggiano e e le coltivazioni sono salde. Capite che questa è un'innovazione di grande senso e grande proposito di enorme eh valore sociale eh di valore di mercato quasi nullo per una serie di questioni eh geografiche, storiche, sociali eh quindi noi abbiamo uno sforzo innovativo di grande creatività, di straordinaria capacità della società di esprimere una soluzione a un problema impellente ma eh completamente estranea alle logiche di remunerazione del mercato. Dall'altra parte avete invece il floating casino quindi si gioca un po' sul il gioco di parole un po' sul floating, sul galleggiante che è questa innovazione di questo signore che in una piscina della California gioca a a carte eh divertendosi con gli amici ecco questa è un'innovazione un po' paradigmatica del fatto che forse diciamo qui la componente prevalente di questa innovazione non è il senso, il proposito e la creazione di un benessere sociale condiviso nonostante probabilmente l'utilità in senso stretto di questo signore sia stata eh aumentata da questa innovazione ma che ha certamente un mercato molto più facile probabilmente più remunerativo è diciamo così riconosciuta dagli meccanismi economici tradizionali molto più di quella che si che è invece rappresentata a sinistra cioè dai giardini galleggianti. Allora per iniziare un po' la questione qui è riconciliare questi due estremi cioè trovare una traiettoria innovativa un approccio politico che in qualche modo restituisca senso e significato all'innovazione e che anche consenta all'innovazione di senso e di significato di essere inserita nei meccanismi economici di avere la giusta remunerazione in modo che la produzione di valore economico si accompagni anche con processi innovativi che generano impatto sociale e ambientale positivo. Questo è come introduzione. Allora quali sono le sfide che oggi rendono drammaticamente urgente questo esercizio che ho rappresentato con questa metafora un po' leggera dei giardini galleggianti e del casino galleggiante. Allora io ne avrei individuati sei. La prima è il fatto che l'innovazione cambia perché stanno diventando violentissimi e molto stringenti i grandi vincoli legati al tema della sostenibilità. E anche qui, per rendere molto brevemente dei concetti un po' complessi, la storia che proverei a raccontare è questa. Quando voi girate per l'Indonesia rurale vedete dei signori come questo rappresentato in figura che al posto delle finestre nelle case hanno dei pannelli con delle bottiglie di plastica col fondo tagliato. Perché questo? perché l'aria evidentemente non possono permettersi un condizionatore in senso stretto per mancanza di energia, elettricità, per scarso potere d'acquisto e quant'altro. E quindi hanno deciso di raffreddare le loro case in questo modo. Perché per il principio di Venturi l'aria passa attraverso la bottiglia e un po' si comprime e poi si espande e così facendo si rinfresca. È un condizionatore del tutto artigianale, quella che gli studiosi chiamano frugal innovation. Ovviamente i miei colleghi, quelli che ho davanti in questo momento al Dipartimento di Energetica, si fanno delle grasse risate o se non altro sorridono con ammirazione compiacente a questa soluzione che ha trovato questo signore. Ma perché questo? Perché questi signori sono impegnati nella industria multimiliardaria dei condizionatori e sono lì che sono impegnati a trovare quell'innovazione marginale e piccola che rende un po' meno umida l'aria, un po' più confortevole la situazione, un po' più efficiente il condizionatore, un po' più economico e quant'altro. E va bene così. Il problema è che la traiettoria tecnologica su cui loro sono e su cui è l'industria dei condizionatori è una traiettoria tecnologica fortemente energy consuming, molto intensiva di energia e quindi anche fortemente impattante dal punto di vista delle emissioni di CO2. Faccio una storia semplice, più complicata, insomma per farmi capire, le emissioni di CO2 aumentano la temperatura, aumentando la temperatura ovviamente in prima battuta è una buona notizia per l'industria dei condizionatori e anche per i miei colleghi di energetica perché si vendono più condizionatori. Il problema è che quando i vincoli della sostenibilità diventano particolarmente stringenti, quella traiettoria lì potrebbe trovarsi in un vicolo cieco perché a un certo punto non si potrà più usare così tanta energia per raffreddare l'area a fronte dell'aumento di temperatura perché non ci potremo permettere quelle emissioni di CO2 e allora ecco che i vincoli diventano talmente stringenti che quella traiettoria muore. Che cosa dovremmo fare a quel punto quando la sostenibilità ci imporrà quel vincolo? Bah, plausibilmente non piantare delle bottiglie di plastica nei nostri muri, naturalmente no, però forse sì tornare da quei signori che sono stati abituati a innovare in condizioni di scarsità, in condizioni di difficoltà che hanno stimolato la loro creatività per rendere innovazioni che invece erano state caratterizzate da soluzioni che erano nate in soluzioni di abbondanza in cui la tecnologia poteva nutrirsi di tanta ricerca, di tante risorse economiche, non doveva fare i conti con dei nuovi vincoli e quindi forse dovremmo imparare un po' non abbandonando la tecnologia, non è un discorso naturalmente, non potrei farlo neanche per dovere istituzionale, un discorso luddista, ma forse una tecnologia più capace di imparare da chi è abituato a innovare in condizioni di scarsità e capite bene che questo lo riprenderò poi in termini in terzo settore. Oppure invece che andare a questo signore chiederemo ai nostri architetti di andare a studiare le tane delle termiti, quelle che vedete raffigurate sulla sinistra e perché vorrete fare questo? Perché le termiti vivono nel deserto dove fa freddissimo di notte e caldissimo di giorno e hanno imparato a costruire un'architettura interna sofisticatissima che tiene la temperatura sempre costante. È una soluzione frugale ma è una soluzione, di nuovo, non vivremo in tanni di termiti naturalmente, ma capire cos'è quel paradigma innovativo e applicarlo al nostro futuro sarà una delle chiavi di sopravvivenza che avremo, quindi una nuova innovazione più compatibile con i nuovi vincoli di sostenibilità. La seconda sfida è che la ricerca e sviluppo è sempre meno produttiva e questa è una questione che in qualche modo dobbiamo affrontare. La ricerca e sviluppo in termini di produttività va un po' a cicli, adesso sta per arrivare l'intelligenza artificiale, quindi forse questo cambierà, ma un signore che si chiama Nicholas Bloom a Berkeley ha scritto un lavoro molto importante che dice che le idee sono sempre più difficili da trovare. E perché questo è importante? Quindi la produttività del dollaro speso in ricerca e sviluppo sta un po' scendendo in termini di idee disponibili per fare gli innovatori. Perché questo è importante? Beh, perché alla fine noi siamo tutti cresciuti nell'economia sviluppata, voglio dire, con un modello che era anche qui un po' un modello grasso, che era il modello degli spillover, alla fine noi eravamo abituati, siamo abituati a investire molte risorse in conoscenza e in ricerca e poi il nostro modello è sempre stato un po' di strizzare dall'alto questa conoscenza, questa ricerca generata e far percolare sulla società innovazioni, soluzioni preziose e quant'altro. È un modello non proprio efficiente dal punto di vista della direzionalità delle soluzioni che c'è, è un modello che funziona quando noi ci possiamo permettere di avere abbondanza di risorse e da queste poi estrarre innovazioni con questo modello un po' dello strizzare, dello spillover. Allora è chiaro che questo renderà un po' più di questa relativa minore abbondanza di idee e di opportunità, renderà un po' più difficile trovare gli unicorni e allora forse dovremmo magari, gli unicorni intesi come imprese che raggiungono un miliardo di euro, forse dovremmo un po' ripensare la nozione di unicorno e nelle future politiche dell'innovazione, pensare che un unicorno fa un miliardo di euro e anche fa il bene di un miliardo di persone. E questo è una trasformazione di idee che dobbiamo in qualche modo tenere in conto. La terza è questa che devo dire un po' sottovoce perché fa un po' arrabbiare i miei colleghi a ingegneria ed è che io credo siamo un po' alla fine della super funzionalità. Che cos'è la fine della super funzionalità? Chi ha pensato la tecnologia, chi ha innovato ha tipicamente usato un approccio endogeno di generazione delle sfide e come dire la sfida è sempre stata quella della super funzionalità, cioè del migliorare la tecnologia fino all'estremo possibile per avendo come linea guida la prestazione assoluta della tecnologia, cioè la risoluzione dei problemi più difficili che vedevano generati lungo il paradigma tecnologico. Per esemplificare quello che voglio dire voi avete a sinistra questo signore che ha avuto un grave incidente, ha perso il braccio e l'innovazione, la tecnologia ha fornito a questo signore una soluzione super funzionale, cioè gli consente di fare il gesto che mi dicono più anatomicamente più complesso, dinamicamente più complesso da riprodurre che è quello di bere da una bottiglietta d'acqua. È evidente che questa soluzione che l'innovazione e la tecnologia ha generato è un'innovazione super funzionale, nel senso che consente a questo signore di fare il massimo possibile per replicare quello che il suo corpo una volta gli consentiva di fare. È una soluzione costosa, pensata per risolvere un problema super funzionale che richiede molta manutenzione, difficile da installare, che richiede a questo signore di essere inserito in un sistema economico e tecnologico molto evoluto. Questo è un problema molto diverso da quello che ha il famoso ragazzo del Jay Purnie, che è un ragazzo che ha avuto un incidente analogo, ha perso una gamba e ha però una serie di bisogni che devono descrivere lo sviluppo della tecnologia largamente diversi da quelli precedenti, perché qui abbiamo bisogno di una tecnologia modulare che accompagni nella crescita questo ragazzo, che sia facile da installare, facile da ottenere, relativamente economica. Allora l'esercizio innovativo che noi abbiamo di fronte è qui molto diverso, perché è un'esercizio innovativo che deve rispondere a un sistema di vincoli e bisogni individuali che sono diversi da quelli di questo signore. L'innovazione è cresciuta un pochino nel mito di servire il signore di sinistra e meno nel mito di servire il signore di destra. Ecco, siccome queste sfide analoghe a quelle di questa signora, come vedete sulla destra c'è la caraffa che tutti noi abbiamo sul tavolo che purifica acqua sostanzialmente già pura, sulla sinistra abbiamo una signora che usa un aggeggio che funzionalmente è la stessa cosa, ma che come vedete risponde a sfide completamente diverse. Ecco, l'innovazione plausibilmente deve cominciare a ragionare su sfide che renderanno le necessità prestazionali diverse da quelle con cui tutti noi un po' siamo cresciuti. E questo ci porta a una terza questione, a una quarta questione connessa a questo. Anche qui ho scelto un esempio per ragionare per analogia. Noi tutti, io per primo, abbiamo celebrato il car sharing come una straordinaria innovazione, ma non solo come un'innovazione di modello di business di grande successo, ma anche l'abbiamo celebrata nella dimensione della sostenibilità, perché tutti abbiamo detto riduce il traffico, riduce l'inquinamento, fa produrre meno automobili, tutto giusto, tutto bene. Noi però, e questo è il salto che dobbiamo fare, siamo cresciuti in un mondo in cui abbiamo in testa, volenti o nolenti, perché ce l'hanno inculcato in tutte le maniere, l'idea dell'efficienza paretiana. Che cos'è l'efficienza paretiana? Siamo qui molti spettatori, se io trovo una soluzione che migliora il benessere di uno e non peggiora quello di nessun altro, questa è una soluzione parete efficiente per l'economia, cioè è una soluzione che va perseguita. E nel caso della Car2Go, tutti siamo rimasti fedeli a questo paradigma. Arriva il car sharing, a Milano c'è il car sharing, qualcuno potrà usare il car sharing e a me personalmente produce un beneficio importante, produce dei benefici ambientali, produce dei benefici sul traffico, una serie di cose, quindi tutti noi l'abbiamo celebrata con un'innovazione perfetta. Perché? Perché tutto sommato dicevamo, vabbè, quelli che non la usavano prima e non la possono usare adesso, per esempio le persone che non abitano a Milano, oppure i disabili in carrozzella che abitano a Milano, non potevano prima, non possono neanche adesso. Invece io che posso usarla, ho generato anche un benessere per me, anche un po' collettivo in termini di inquinamento. Il punto è, siamo sicuri che gli innovatori nel futuro potranno continuare a usare questo principio, cioè a pensare che il ragazzo in carrozzella ha un benessere che è esattamente uguale a quello di prima? Io penso che non sia più tanto vero, perché questo ragazzo in carrozzella è vero che prima non usava il car sharing e neanche adesso lo usa. Però alla sera, quando i suoi amici vanno a divertirsi, il gap di opportunità tra lui e i suoi amici si è ampliato considerevolmente. Lui è rimasto escluso, questa è un'innovazione che produce diseguaglianza, esclusione. E questo è un problema che va tenuto in conto, oppure questo ragazzo rispetto ai suoi colleghi ha una produttività inferiore, perché gli altri si possono muovere per Milano attraverso il car sharing. Allora il gap è aumentato, noi non possiamo più considerare una soluzione parete efficiente così perseguibile to cure se non teniamo conto che ci sono dei gap di esclusione, diseguaglianza che aumentano tutte volte che innoviamo. Ricordiamoci il vecchio adagio giapponese che dice chi produce la barca produce il naufragio, chi ha inventato la barca ha inventato il naufragio, che di nuovo non è antitecnologica, però è una verità. Ogni innovazione ha le sue conseguenze inattese. Perché io sosterrò tra poco che il terzo settore è fondamentale per una nuova stagione di politiche di innovazione? Perché il terzo settore incapsula certe soluzioni innovative in contesti che sono capaci di minimizzare le cosiddette conseguenze inattese dell'innovazione. E che cosa vorrà dire fare innovazione nel futuro sganciandosi da questa visione semplicistica dell'efficienza paretiana e considerando sempre il potenziale di esclusione? Vorrà dire produrre soluzioni come quella che ha prodotto questa industria italiana o chiedere a chi fa il car sharing di produrre innovazione tenendo conto anche della potenziale di esclusione e diseguaglianza che l'innovazione si porta con sé. Questa sarà la frontiera dell'innovazione responsabile. E questo vale anche per la politica naturalmente perché quando è stato lanciato l'incentivo al monopattino, vi ricordate nell'estate scorsa durante la pandemia, al di là del fatto che l'incentivo al monopattino ha avuto effetti industriali discutibili, ma se voi oggi vi mettete a Milano, in centro a Milano e guardate tra le 8 e le 10 del mattino chi passa in monopattino, passano in monopattino giovani uomini tra i 20 e i 40 anni che a differenza delle loro colleghe donne non hanno la cartella del bambino, il pane, il sacchetto della tintoria da andare a ritirare e quant'altro. Quindi noi abbiamo inconsapevolmente incentivato con risorse pubbliche un'innovazione prestazionale, un'innovazione che ha indotto un tasso di diseguaglianza. Non vorrà dire non fare innovazione, vorrà dire però che quando innoveremo, quando faremo politiche, invece di farsi immediatamente prendere da quella eccitazione un po' semplicistica di fare cose verdi e cose green, forse dobbiamo un po' tenere presente il fatto che tra la dimensione verde sostenibile e la dimensione sociale di inclusione c'è spesso una rivalità che i nuovi processi di innovazione non possono non tenere in conto. La quinta sfida è quella delle crisi endogene della tecnologia. Allora questo è molto semplice però io credo che vada un po' detto. Allora noi la novità che raccontiamo oggi non è che la tecnologia impatta sulla società perché questo lo sappiamo da Prometeo del Fuoco, da Gutenberg alla stampante. Quello che cambia oggi è che in un mondo iperconnesso l'impatto della tecnologia sulla società ed è per questo che noi dobbiamo occuparcene in maniera prioritaria è più rapido e meno prevedibile e quindi meno gestibile da parte dei politici, da parte delle imprese, da parte dei cittadini. La storia che racconta Steinbeck in furore è la storia della maccanizzazione delle grandi praterie americane dove sono state introdotte le macchine agricole, c'è stata una crisi sociale drammatica, i contadini hanno dovuto emigrare in California. In quella storia lì come era il rapporto tra tecnologia e società? Era prevedibile. Io introduco le macchine agricole, non ci vuole uno scienziato per capire che perderanno il lavoro moltissimi contadini. Primo. Secondo, ha avuto effetti lenti. Perché? Perché si è sviluppata in 40 anni e durante questi 40 anni i politici hanno potuto mettere in atto politiche, campi di accoglienza, programmi di riqualificazione, i contadini sono emigrati, sono trovati un lavoro, le banche hanno riallocato i loro asset, tutti hanno fatto le cose. Adesso fate partire il cronometro invece sulla storia di Airbnb. Storia di Airbnb, parte il cronometro, c'è un'innovazione, Information Technology, che crea le piattaforme di incontro domanda offerta. Va bene? Parte il cronometro, si crea una piattaforma di domanda offerta, nasce un nuovo modello di business, Airbnb. Il modello di business diventa globale e immediatamente dopo succede che alcune città europee cacciano fuori Airbnb perché crea delle distorsioni di diseguaglianza enormi nelle città impedendo alle persone di affittare le case o gli studenti o i poveri di affittare le case e i borghi storici italiani del centro Italia vengono gentrificati da Airbnb con conseguenze sociali enormi. Qual è la novità qui? È che in un mondo iperconnesso questa storia è accaduta in sette anni ed è accaduta in maniera imprevedibile perché francamente che una piattaforma IT, un modello come quello di Airbnb potesse creare delle enormi diseguaglianze nelle città e rendere impossibile la vita agli anziani nei borghi delle città era una storia che non era facilissima da prevedere. Imprevedibile e rapida. Che cosa vuol dire? Che occuparsi dopo dell'impatto della tecnologia e dell'innovazione sulla società non è più possibile. Il controllo esposto non è più nella disponibilità dei politici e delle imprese. L'unica maniera per controllare gli impatti sociali è portarli exante, endogenizzarli nell'atto progettuale, nel modello di business, nel modello tecnologico perché è l'unica maniera per tenere sotto controllo gli impatti sociali positivi e negativi naturalmente. L'ultimo ci porta alla dimensione politica della storia e qui un po' di rivisitazione. Allora se voi ci pensate gli ultimi 25 anni, 30 anni di politiche dell'innovazione sono stati anni in cui noi abbiamo affidato alla cosiddetta economia della conoscenza tutte le nostre speranze di prosperità ed eguaglianza. Abbiamo detto, noi quello che dobbiamo fare è investire così tanto in conoscenza e innovazione che poi tutta questa ricchezza generata dall'innovazione e della ricerca zampillerà sulla società, renderà la società più ricca e migliore e questo zampillare avverrà anche in maniera equa, cioè beneficerà i territori e le persone in maniera equa. Ecco, possiamo serenamente dire, questa è una figura di uno studioso che si chiama Rico Grighez, pose che ci siamo sbagliati clamorosamente, non è successo così. L'economia della conoscenza ha generato prosperità abbastanza, qualche volta, ma ha avuto un terribile effetto in termini di diseguaglianza tra territori e tra pezzi della società. Cioè che cosa vuol dire? Vuol dire che quell'economia della conoscenza ha polarizzato la ricchezza in pochissimi luoghi, lasciando indietro moltissimi altri territori e questo vale anche, non è solo una questione nord-sud, questa è la più facile, ma anche tra il nord Milano, per capirci, e grandi pezzi dell'Italia post-industriale. Faccio esempi non lombardi, così nessuno si offende, ma insomma, Vercelli è una città che è rimasta esclusa da questo. Non sono solo le valli cunesi, sono anche città importanti che una volta avevano un modello di sviluppo che in qualche modo le teneva agganciate allo sviluppo che oggi a valle dell'economia della conoscenza sono rimaste sradicate e di questo noi dobbiamo tenere conto. Perché dobbiamo tenere conto soprattutto in termini politici? Perché tutte le politiche che noi abbiamo creato negli ultimi 30 anni, soprattutto quei fondi strutturali, aderivano a questo modello. Come abbiamo speso i fondi strutturali in questo campo? Creando i parchi scientifici, creando incubatori, scimmiottando la Silicon Valley, replicando quel modello lì. Quel modello lì, al di là dell'essere stato notoriamente, parzialmente di successo, diciamo per usare un eufemismo, non ha fatto altro che aumentare questa tendenza di polarizzazione delle opportunità derivanti dalla conoscenza e ha tagliato fuori alcuni territori. E quello che noi abbiamo fatto a livello paese è stato cercare di iniettare questo modello a territori che non potevano in nessun modo beneficiare di questo modello. Sapete, quando io ho iniziato a fare il consigliere durante il governo Monti, c'erano in Italia 1.400 strutture di intermediazione tecnologica, cioè tra parchi, distretti, in posti d'Italia in cui non c'era una speranza al mondo che l'investimento in conoscenza generasse sviluppo. Era una truffa ideologica ai cittadini, perché se io vado in una landa deserta dove non c'è presenza industriale, dove non c'è piccola e media impresa vivace, fare un incubatore scientifico lì o fare un parco scientifico, bisogna chiamarla col suo nome, è una truffa. Allora ecco che è spiegato il fatto che i fondi strutturali sono stati tutto storicamente negli ultimi 30 anni fuorché una politica di coesione, l'esatto contrario. E allora noi forse dobbiamo un po' cambiarlo questo modello nel futuro. E qui vengo a questo punto al terzo settore. E la questione del terzo settore, salto queste cose perché sono troppo lunghe, la questione del terzo settore significa passare dalla tripla elica alla cosiddetta quadrupla elica. Cioè includere la società civile in un processo di innovazione sociale e perché? Parto da questa ultima questione che stavo dicendo. Allora noi abbiamo una situazione in cui la ricchezza e le opportunità industriali si sono polarizzate in pochissimi posti. In Italia diciamolo abbastanza facilmente. A Milano in alcuni posti molto localizzati della Lombardia, pochi. Il resto è un po' tutta una finta quella della politica di ricerca e innovazione. E come dire, la frase la ricerca e l'innovazione portano sviluppo è una frase sbagliata, è una frase non vera. La frase giusta e completa è la ricerca e l'innovazione portano sviluppo a certe condizioni. E la politica ovviamente si deve occupare di quelle certe condizioni. Allora quelle certe condizioni in molte aree del paese sono le seguenti. Ci sono pezzi del paese che non hanno più tessuto industriale. Non c'è più. Non c'è più quel sistema di imprenditorialità piccola, media, grande che crea ricchezza, aveva possibilità di creare valore ricchezza nei territori. Allora se non c'è l'industria, qual è il meccanismo che trasferisce il valore della conoscenza, della ricerca alla società? Noi avevamo un modello molto facile. Ricerca, investimento in ricerca e innovazione, creazione di valore. L'industria lo intermedia e lo restituisce alla società sotto forma di salari e di posti di lavoro. Facile. Se non c'è l'industria intermediare, come facciamo? In che modo paghiamo il dividendo sociale alla società? Questo mi porta a dire qual è il grande valore del terzo settore in questo momento. Allora abbiamo circa 20.000, ma ho contato, imprenditoriali. Cosa vuol dire imprenditoriali? Significa che sono organizzazioni che hanno dei ricavi, che hanno un modello di servizio, che spesso hanno un mercato molto importante. Allora facciamo una scommessa insieme. Proviamo a pensare, per il prossimo futuro, delle politiche di trasferimento tecnologico che non siano fatte solo a mio svantaggio, per la bovisa, per il distretto tecnologico, santo, così come quello di Bicocca, così come l'incubatore di Bocconi, così come molti altri in Lombardia. Non stiamo criticando questi, questi dobbiamo ringraziare al mattino che ci sono, ma non possono essere solo questi. Proviamo a pensare anche che facciamo un trasferimento tecnologico e delle politiche di trasferimento tecnologico. Le università facciano una terza missione che non ha solo come obiettivo quel tipo di eccellenza scientifica e tecnologica e quindi come obiettivo il ragazzetto nel garage che crea la nuova Google o il ricercatore con l'ottimo brevetto. Non dico non questo, dico non solo questo. Facciamo un altro esercizio. Ci immaginiamo una nuova generazione di terza missione delle università e di politiche di trasferimento tecnologico che abbiano un obiettivo. Ogni anno di far diventare una su cento di queste 20.000 imprese sociali un'impresa tecnologica, strutturata managerialmente, finanziarizzata. Quindi, se volete, evocativamente proviamo a pensare al terzo settore imprenditoriale in Lombardia come un fantastico incubatore diffuso e distribuito sul territorio. Se noi riusciamo a contaminare ogni anno una su 20.000 di queste imprese sociali, vuol dire che ne abbiamo 200 imprese all'anno che fanno il salto da imprese sociali che servono in mercato a imprese ad alta potenzialità tecnologica, con già un mercato, con un modello imprenditoriale vero, con una capacità di servire la società incorporata alla creazione di valore economico. Guardate che in Italia, per fare 200 imprese all'anno, tutti gli incubatori accademici che abbiamo, ma non ci riescono neanche in 50 anni, se noi una su cento delle imprese del terzo settore non è tantissimo. Significa prendere le tecnologie, non necessariamente ad alta tecnologia, anche low e medium tech, accompagnare il trasferimento tecnologico di queste e appunto immaginare queste imprese che servono sociale. Io dico in realtà ci sono due reti di imprenditorialità sui territori che dovremmo imparare a contaminare meglio col trasferimento tecnologico, quelle del terzo settore e quelle del saper fare, quindi intendo le piccole imprese, le reti, l'artigianato, il commercio, tutti i soggetti di cui ci siamo dimenticati, lo dico noi come università, nel considerarli beneficiari di politiche di capacity building tecnologico. Allora, che vantaggi ha questa politica di trasferimento tecnologico che guarda anche al terzo settore imprenditoriale e all'artigianato diffuso, al piccolo commercio e quant'altro? Ha il vantaggio innanzitutto che si innesta in potenziali imprenditoriali che sono equamente distribuiti sul territorio, sono ben distribuiti, non è come la scienza e la tecnologia che sono concentrati in pochissimi posti e quindi hanno una capacità distributiva del valore dell'innovazione particolarmente forte e particolarmente capace. Secondo, c'è tutta una finanza, dirò per ultimo questo, secondo, dentro quelle forme imprenditoriali, quelle del terzo settore e del saper fare, c'è un potenziale antropologico, una voglia imprenditoriale che somiglia di più, una cattiveria se vogliamo, che somiglia di più allo spirito degli anni 50, se volete all'imprenditore schumpeteriano, molto più forte, lo dico prendendomi le mie responsabilità, di quella che troviamo nei nostri incubatori universitari, tra i dottorandi, tra i ricercatori. Complessivamente, per ragioni antistoriche, antropologiche, sociali, allora quella è una cosa su cui noi dobbiamo fare leva. In Italia ci sono circa 65-70 miliardi di spesa privata out of pocket in sanità, che sono un mercato spesso servito dal terzo settore. Allora proviamo a fare un'equazione. C'è un mercato, il cosiddetto mercato dei bisogni. 65 miliardi è la misura dei bisogni sociali non coperti dal welfare tradizionale. C'è un modello imprenditoriale, l'imprenditorialità sociale che può essere fertilizzata attraverso un po' di tecnologia, un po' di finanza e un po' di capacità manageriali. C'è una finanza che sempre di più ha la disperata ricerca di opportunità di investimento di valore di impatto sociale, di impatto ambientale. Allora, guardate che un mercato più un modello imprenditoriale, più un sistema finanziario disposto a sostenerlo, fa una filiera industriale. E se non è una filiera industriale questa, io non ho capito che cos'è una filiera industriale. Che cos'è? Non per niente, come credo sappiate benissimo, la Commissione Europea che sta per lanciare il Social Economy Action Plan, quando ha definito i 14 cluster industriali che servivano per creare i pilastri su cui si sostiene Next Generation EU, ha incluso, vicino al farmaceutico, all'information technology per capirci, la Social Economy come settore ha enorme potenziale di crescita. Perché? Per le ragioni che ho detto e anche perché l'innovazione incorporata e trasmessa attraverso le imprese sociali, la Social Economy, è un'innovazione che perde un po' di quelle sue caratteristiche negative e aumenta la sua capacità di impatto sulla società. E diciamo dal senso alla società che è finita quella stagione in cui la mimica della Silicon Valley aveva lacerato il rapporto tra tecnologia, innovazione, ricerca e società e il rivolgersi al terzo settore, rivolgersi alle grandi reti del territorio aiuterà a rinsaldare, a ricucire quella frattura che oggi la società ha rispetto alla narrazione dell'innovazione. Io faccio un esempio sempre molto banale e vado a chiudere, che è una storia anche qui che prendo fuori Lombardia, quando la regione Piemonte comprò dalla Fiat il milione di metri quadri di Mirafiori per un'operazione di politica industriale che si poteva in qualche modo comprendere, insomma su cui non stiamo a discutere. Dato di fatto la regione si trovò con un milione di metri quadri in mano e doveva restituire questo valore che aveva comprato per circa 70 milioni di soldi dei cittadini alla società. La narrazione fu, allora sapete cosa facciamo? Adesso prendiamo il Politecnico, prendiamo gli innovatori, facciamo le start-up digitali, facciamo e tutti questi start-up digitali meravigliosi crederanno valore e cari cittadini torinesi in questo caso voi avrete un sacco di valore sociale restituito da questa operazione che è dovere della regione. Questa cosa naturalmente non avvenne perché non poteva funzionare, però la signora che abitava davanti a Mirafiori e si sentiva dire questa storia delle start-up digitali, dell'alta tecnologia, della ricerca che crea sviluppo, ci ha creduto perché era disposta a crederci, ma naturalmente ha capito questa storia secondo il suo codice a proposito di responsabilità sociale e il suo codice era, ma allora adesso mi dice che ci sono tutti questi start-up in questa area meravigliosa, questi qua dovranno pure bere il caffè, il mio figlio che ha fatto l'alberghiero troverà un lavoro lì dentro. Lei l'ha capita così e aveva ragione lei, questo è restituzione del dividendo sociale e poi ha anche capito che dice tutti questi start-up dovranno venire qui a lavorare, mi allungheranno, mi aumenteranno la frequenza dei bus. Lei l'ha capita così, questo è dividendo sociale. Al secondo, al terzo, al quarto anno, quando ha cominciato a capire che questa roba non stava funzionando, perché non poteva funzionare, perché non c'era la massa critica di scienza necessaria, perché non c'erano i tempi necessari, perché questo paese ha perso specializzazione industriale, al terzo, al quarto anno non ci ha più creduto, ma non solo non ci ha più creduto, ha maturato una distanza, una cattiveria, un rifiuto per la scienza, per la tecnologia e per il processo associato, di cui adesso paghiamo duramente il conto. Allora, o noi immaginiamo delle politiche di ricerca che pensano subito alla questione del figlio all'alberghiero di questa signora, non asservendole, ma pensando anche a lei, oppure noi tra un po' avremo perso completamente la legittimità di investire dei budget pubblici in ricerca e innovazione. Questa è fondamentalmente la ragione per cui io credo che si debba immaginare che la soluzione sia reclutare pezzi di terzo settore all'interno delle politiche industriali dell'innovazione e restituire un po' di empatia. Il mio commento finale è che, per quanto bene si possa pensare del piano nazionale di resilienza, di ripresa di resilienza che è stato scritto dal governo, è stato messo a posto, però diciamo tra le tante caratteristiche che ha, non possiamo dire che abbia empatia e voglia di coinvolgere la società e empowerment sulla società. Allora, una delle grandi strade, a mio parere, è di ripensare un po' le politiche di trasferimento tecnologico e ricordarsi che le grandi reti del terzo settore, le grandi reti del saper fare sul territorio, sono dei protagonisti a tutti gli effetti utilissimi per una nuova generazione di politiche di sviluppo inclusive. Vi ringrazio. Grazie mille, grazie mille a Mario Calderini per questo inspiring speech, direbbero gli inglesi assolutamente, con tantissimi esempi molto concreti. È un focus anche a pensare all'innovazione collegata al territorio, alla natura dei mercati già esistenti e degli attori che popolano il contesto lombardo, ma in generale italiano. Molto spesso nel contesto europeo si parla proprio di innovation place based, cioè l'innovazione va concepita come un ecosistema che è radicato sul territorio e deve interpretare e abilitare gli attori sul territorio proprio considerando la natura e le caratteristiche degli attori e del territorio stesso. Quello che appunto ci ha raccontato Maria Calderini è di cercare di puntare su queste macro comunità del terzo settore del saper fare che sono assolutamente presenti e maggioritarie nel DNA del contesto italiano e su cui appunto innestare, iniettare delle porzioni di tecnologia e di innovazione servirebbe appunto ad aumentare la crescita economica, tecnologica e ma di benessere sociale proprio perché appunto come ci ricordava Mario Calderini riescono a minimizzare quelli che sono i rischi intrinseci dell'innovazione della tecnologia e hanno appunto nella loro natura l'idea di servire la società. Come sapete questi incontri possono essere seguiti in streaming su Open Innovation ma alcuni decidono appunto di entrare nel nostro spazio Zoom per poter interagire con i dieci membri del foro per poter fare delle domande e dei commenti. Quindi a questo punto do l'occasione a coloro che vorrebbero interagire con Mario Calderini con dei commenti, dei feedback, delle domande, delle richieste di chiarimento su quanto è stato appena presentato ad alzare la mano o anche comparire in video per poter appunto commentare direttamente con Mario Calderini. Non so se c'è già qualcuno pronto per intervenire. Chiedo anche appunto al collega se ci sono delle domande in YouTube dove siamo in streaming sul canale di Fondazione Bassetti in passati incontri abbiamo avuto anche dei commenti lì da YouTube nulla. Intanto procedo io. Mario Calderini mi sembra che come dire i pezzi del puzzle ci sarebbero tutti. Abbiamo parlato appunto di comunità già pronte del saper fare, del terzo settore, di una finanza pronta a intercettare una richiesta di percorso ad impatto sociale, ad impatto ambientale. Sembrerebbe che ci fossero tutti gli ingredienti per la buona ricetta. Che cosa ci manca allora? Perché ci possa essere l'abbrivio per spostare l'asse del trasferimento tecnologico, come ricordavi, non esclusivamente, ma accompagnare appunto questi percorsi di trasferimento tecnologico non solamente sulle vie maestre consolidate che ben conosciamo, ma anche verso queste nuove traiettorie. Io credo che manchi un po' come dire di consapevolezza. Questa consapevolezza della natura del terzo settore perché quante volte capita di interloquire e di sentirsi raffigurare il terzo settore come fosse una massa indistinta di onlus che fanno filantropia. Io credo che il terzo settore, e questo è anche un po' a suo carico, dovrebbe rivendicare un po' di eterogeneità, di capacità di rappresentarsi in maniera un po' più solida senza, come dire, venendo a patti con le contraddizioni che quante volte lo segnano. Consapevolezza anche del fatto che il protagonismo del terzo settore nelle traiettorie industriali, nelle traiettorie di business è segnato anche nel post-pandemia perché io ho la convinzione, ma non io, insomma, chi studia queste cose anche più specificamente, che ci saranno dei settori industriali, settori di business, che non saranno più se non sociali, se non di comunità. L'assistenza e la cura, il turismo di prossimità, la distribuzione di cibo di ultimo miglio, i modelli di abitare. In questi modelli il nuovo, qualcuno chiama capitalismo di comunità, non potrà prescindere da partenariati complessi con un terzo settore imprenditoriale che però deve trovarsi un po' evoluto a questo appuntamento. Consapevolezza delle sfide di cui abbiamo parlato oggi, dal punto di vista del policy making, dico una cosa forse un po' impopolare. Questa esperienza nostra, Angela Del Foro, ci ha insegnato innanzitutto che è molto utile avere dei soggetti, delle persone, delle personalità scientifiche competenti in ruolo indipendente ed esterno che possano in qualche modo fare da contraltare, da contrappeso. Penso che uno dei problemi, la ragione per cui le politiche della scienza e della ricerca e dell'innovazione sono delle politiche fortemente basate su una logica top down, su una logica di offerta, questa è la caratteristica anche delle politiche europee storiche, è una logica sociopolitica, cioè della rilevanza sociale che gli scienziati hanno sempre avuto e del fatto che sono sempre stati chiamati loro e solo loro a disegnare le politiche. Ecco, io credo che ci vada un pochino più di eterogeneità, vogliamo dirla brutta, bisogna un po' togliere le politiche dell'innovazione dalle sole mani dagli scienziati, perché ovviamente gli scienziati hanno un loro modello, che è un modello che comincia dall'investimento in scienza. Ora, mi piacerebbe di non essere frainteso, sono l'ultimo al mondo che sosterrebbe che non vada fatto l'investimento in scienza, questo sempre è una precondizione ineludibile, però l'innovazione ha tante fonti, ha tanti modelli, ha tanti modi di realizzarsi, ha dei processi complessi, non sempre inizia dall'alto, qualche volta inizia dal basso, insomma, tutte queste cose vanno tenute un po' in conto. Allora, dobbiamo forse essere un po' consapevoli che invece noi negli ultimi 30 anni, se noi guardiamo da Lisbona, da Lisbona 2000, la storia del 3% di spesa, alla fine quella storia lì è stata un'ossessione di investire in ricerca, di fare siringoni di ricerca a qualunque soggetto imprenditoriale si trovasse attorno, anche se quel soggetto imprenditoriale non aveva nessuna intenzione di basare le proprie attività innovative sulla ricerca e certamente non in quel modo lì. Quello che successe nel tardo 2005, inizio del 2006, con il rapporto AO e il dibattito di Anton Corto, in cui si disse, ma forse questo modello tutto offerta di conoscenza e niente politiche della domanda, è un po' sbagliato. Ecco, era il 2006, c'è stato un rapporto che l'ha detto, se voi andate a guardare le politiche del governo italiano, ma di tutti i governi europei non c'è ancora traccia di un passaggio a politiche demand side rispetto a politiche dell'offerta. Grazie Mario Calderini, nel frattempo Emanuele Fiore si è prenotato con una mano alzata, quindi chiedo a Emanuele Fiore di intervenire, grazie, benvenuto, buongiorno. Benvenuto a voi, in primis complimenti per l'eccellente seminario e poi con l'occasione ho la gioia di rincontrare il professore Calderini che ho incontrato in Canada durante il mio mandato di addetto scientifico e lì sarà dura fare una domanda dopo questa eccellente presentazione del professore Calderini, però come membro eletto della Triple Helix Association, che è un modo innegabile che all'epoca aderì, aver vissuto otto anni in Canada, è nato il credito d'imposta è nato in Canada, ne discutemmo durante un bello ottombrata dove c'era il foliage a Ottawa ed è stato facilissimo parlare di credito d'imposta, è stato facilissimo parlare dove nasce un'impresa, il Venture Capri, dove veramente il modello della Triple Helix viene attuato, condivido sul modello ultimo presentato dal professore Calderini, innegabile sull'impatto sociale che deve portare l'innovazione, direi la domanda che vorrei fare ma è veramente molto semplice, mi scuso, mi condivido pienamente sul modello presentato, anche noi all'interno del CNR, io lavoro lì presso l'Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri, abbiamo una sede a Lecco, ma il quartier generale come si vede dal mio back è a Pozzuoli a Napoli e quello volevo dire che la terza missione bisogna imparare anche a noi ricercatori, prima cosa se è possibile avvicinare sempre di più il modello tra l'accademia e la ricerca, perché l'intuizione rispetto al processo lineare nasce dall'intuizione del ricercatore, del professore, dell'associato, dallo studente, dal dottorato di ricerca e quant'altro, dobbiamo sicuramente fare sì che la terza missione impari a far sapere e a saper fare, perché a volte mancano nel mondo dell'accademia, nel mondo della ricerca, dei principi di comunicazione che sono la base del trasferimento della tecnologia, e alla cosa più importante mi chiedo, rispetto a questi 1400 interlocutori per l'innovazione, ma l'idea di fare un'agenzia per l'innovazione in Italia, dove io sono, ora siete tutti in regione Lombardia, io sono a favore del federalismo competitivo, come è nato in Canada, anche se come si sente all'accento sono napoletano, ma la cosa più interessante, l'idea di creare un interlocutore dove tutti noi che facciamo trasferimento tecnologico lavorassimo insieme, è un caro saluto al professore Calderini. Grazie, grazie Emanuele, è piaciuto di rivederti. Allora, rispondo alla fine alla seconda domanda, diciamo, io sono, come sai, ho aderito all'idea di Harry Ezkowicz, la terza missione, la tripla elica e oggi non per niente ho finito rappresentando la quadrupla elica, che non vuol dire sconfessare quella cosa, ma inserire la società civile come quarto attore della cosa. Quindi sì, dobbiamo però, come dire, fare un po' i conti con il nostro passato, io per primo, e dire che chi ha studiato il trasferimento tecnologico e chi l'ha messo in pratica, è stato, diciamo, noi di cosa ci siamo occupati accendemicamente e cosa abbiamo travasato in politica? Abbiamo collassato l'intera idea di trasferimento tecnologico a brevetti e start-up. Quando sapevamo, lo sapevamo benissimo, che i meccanismi di trasferimento tecnologico massivi erano, viaggiavano su altri canali, le consulenze dei professori, l'insegnamento. Allora, noi abbiamo creato, dentro la tripla elica, è proprio un errore culturale di cui mi attribuisco in piccola parte, un mondo in cui sembrava che l'unica maniera possibile e l'unico policy making possibile e gli unici strumenti possibili fossero appunto fare degli incubatori, occuparsi di brevetti, fare le start-up, che è una cosa importantissima, straordinaria, ma che sta insieme ad altre cose altrettanto importanti. Quindi io penso che un po' di mea culpa, e quindi non per vittimizzarsi, ma insomma per mettere a disposizione un nuovo modello, noi lo dobbiamo un po' fare. Una tripla elica un po' meno autoreferenziale, ecco, io questo vedo nel futuro. Però sono totalmente d'accordo con te. Allora, sulla politica e sull'agenzia unica. Tu sai che io ho fatto il consigliere di tutti i ministri, praticamente da Monti fino a Conte Escluso, e la mia attività prevalente era stare seduto nel mio ufficio e ricevere colleghi spesso, qualche volta vagamente sociopatici, perché venivano, si sedevano lì davanti e la prima cosa che dicevano era, allora io adesso ho capito come riformare la ricerca italiana. Sempre così, tre al giorno, tutti che avevano la ricetta. E poi dicevano la cosa, sempre spesso anche piuttosto ragionevole, io dicevo, mi dica professore. Il problema che io cercavo disperatamente di spiegare a loro, e questo vale per l'agenzia per l'innovazione, sono due problemi. Il primo è, io ho imparato una cosa, che il policy making in politica dell'innovazione, la parte costruence è facilissima, costruire è facile. Se noi prendiamo uno qualunque dei nostri ascoltatori oggi e lo mettiamo lì vicino a te, seduto a un tavolo in una stanza tranquilla, in mezzo pomeriggio, ti disegna una ragionevolissima politica di innovazione per il paese. La parte complicata è mettere le mani nel fango e decostruire tutto quello che c'è, smontare i 1400 incubatori, parchi e quant'altro, risolvere il problema sindacale del CNR, smontare Enea. Ecco, adesso dico delle cose. Allora, io purtroppo ai miei colleghi che mi presentano ricette spesso dico, va bene, adesso ci occupiamo per tre anni della parte di decostruzione e poi la parte di costruzione vedrai che in due pomeriggi la sistemiamo. L'agenzia dell'innovazione è una ottima idea, io l'ho anche perseguita, anzi devo dire sono stato in una delle versioni che ci sono state nella storia col governo Berlusconi dell'agenzia dell'innovazione. C'è un problema strutturale alle spalle di delega di poteri dei ministeri, la storia però Emanuele è una storia chiarissima e non possiamo dimenticarci per farci qualcosa. Tutte le agenzie create dalla presidenza del Consiglio, qualunque agenzia, è stata generata e uccisa in culla dai ministeri, sempre. L'agenzia dell'innovazione, l'agenzia per l'Italia digitale. Allora, io, quale sia il meccanismo istituzionale che fa sì che questo non succederà più? Non lo so, però bisogna tenerne conto perché evidentemente ci sono degli anticorpi dentro i ministeri più importanti che rendono quasi irrealizzabile questo disegno. Sulla parte in teoria sono totalmente d'accordo, oggi ci sarebbe un bisogno drammatico. Grazie, sei gentilissimo Mario, buon lavoro a tutti. Grazie mille, grazie Emanuele Fiore per questa sua domanda, per questo suo intervento. Ormai siamo addirittura ad arrivo di chiusura di questo incontro, come abbiamo fatto poi con tutti gli altri cinque incontri, abbiamo dato ovviamente ampio spazio ai membri del foro di presentarsi, di presentare i loro percorsi, ma abbiamo ovviamente utilizzato queste occasioni per conoscere un po' meglio le attività che sono state svolte dal foro durante questi tre anni. Quindi anche come presidente del foro, Mario Calderini, ci piacerebbe sapere un po' di più rispetto a una delle attività chiave del foro. Attività chiave perché proprio sancita all'interno della legge regionale Lombardia ricerca e innovazione, la stessa legge che istituisce il foro, una delle attività appunto disegnata attorno al foro è quello di supporto nella scrittura, nel design della strategia, del piano strategico triennale per la ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico della regione Lombardia, piano su cui appunto la regione sta lavorando proprio in questi mesi e a cui ha contribuito chiaramente il foro, sia nella scrittura del passato o piano che di quello che appunto si sta preparando in questi ultimi mesi. Il foro chiaramente non si sostituisce a tutti gli attori della ricerca e dell'innovazione che sono sul territorio, con cui regione Lombardia chiaramente interagisce quotidianamente nel andare appunto a conoscere il territorio, quali sono le peculiarità, le domande, le richieste e la capacità, la potenzialità appunto di esprimere percorse e traiettori di ricerca e innovazione, ma il foro allo stesso tempo può avere un ruolo importante nel design di questi piani strategici triennali. Quindi Mario che cosa ha fatto in questo percorso dei tre anni il foro nell'accompagnamento nel design del piano strategico triennale, se puoi raccontarlo a tutti coloro che ci seguono? A noi abbiamo, come dire, in un processo secondo me corretto di generazione della visione politica e anche degli strumenti da parte dell'amministrazione, ci siamo posti come contraltare e in qualche modo abbiamo cercato di iniettare in tutte le parti del foro del piano e quindi anche, come dire, evitando l'errore di giustapporre le questioni legate all'inclusione, all'innovazione inclusiva, alla responsabilità di giustapporle alle altre azioni, ma diciamo di far sì che ciascuna delle azioni, ciascuno degli obiettivi fosse ispirato ai principi di restituzione del dividendo sociale ai cittadini lombardi e questo credo sia stato un'operazione piuttosto importante. Abbiamo anche un po' spinto per il protagonismo di soggetti non tradizionalmente inclusi e anche per, come dire, l'adozione di forme partecipative nella definizione degli obiettivi che in questo momento sono particolarmente significativi. Quindi devo dire che il primo piano e adesso quello che traduce sono piani che mi sembra nel panorama italiano abbiano molto beneficiato di questa forte visione inclusiva, responsabile, diciamo così generativa e restitutiva delle politiche di ricerca e innovazione. Se vogliamo, l'effetto indotto di questo sforzo che per me è stato molto gratificante è anche che nel momento in cui tu poni i problemi dell'inclusione e della responsabilità e della restituzione del dividendo sociale, immediatamente poni anche un problema di trasversalità nelle azioni politiche. Cioè il vero pregio di fare piani come quello della regione Lombardia, fortemente orientati all'inclusione, all'ascolto e anche che tu sei costretto a reclutare tutte le politiche, la salute, l'industria, l'agricoltura, dico per dire, a un unico obiettivo e hai un effetto indotto di integrazione delle politiche che si traduce immediatamente in un aumento di qualità delle politiche. Grazie mille, io ringrazio Mario Calderini per il suo intervento oggi, ringrazio con l'occasione visto che siamo appunto alla chiusura del ciclo di webinar in dialogo col foro tutti i dieci membri del foro regionale per la ricerca e innovazione, Agnes Allasdottir, Marzia Mazzonetto, Federica Lucivero, Francesco Lescai, Denise Di Dio, Guido Romeo, David Gaston, Ralph Lindner, Douglas Robinson e appunto Mario Calderini, presidente del foro per la ricerca e innovazione di regione Lombardia. Ringrazio e saluto tutti voi per averci accompagnato in questo percorso di questi sei appuntamenti. Troverete comunque sul sito Open Innovation tutte le informazioni e tutte le attività del foro che sono state svolte in questi tre anni che continueranno fino alla fine del 2021. Ringrazio e saluto anche a nome di Fondazione Bassetti che ha avuto l'enorme piacere, l'enorme onore di coordinare scientificamente e operativamente il percorso del foro in questi tre anni. Buon proseguimento e buona giornata a tutti.